366 storie della buonanotte Di Teresa Buongiorno, 1990 Arnoldo Mondadori, editore 26 dicembre Il giustiziere mascherato C'era una volta in California, agli inizi dell'Ottocento, un giustiziere mascherato che voleva liberare il popolo da un governatore tiranno. Arrivava nel buio della notte, mimetizzato da un mantello nero, un nero sombrero, una mascherina nera sugli occhi, in groppa a un cavallo nero. Lo chiamavano il sorro, che in spagnolo vuol dire la volpe, perché era rapido e furtivo. E perché si firmava con una zeta stracciata dovunque a fil di spada, su una porta, su un tronco, sul dietro dei pantaloni del tenente García della guarnigione di Los Angeles. Un sempliciotto che si ritrovava sempre beffato. E c'era, a Los Angeles, Don Diego della Vega, il giovane rampollo d'una nobile famiglia, preoccupato sempre d'essere ben vestito, indifferente di fronte ai bisogni del popolo oppresso, che faceva infuriare la sua fidanzata. Lei l'avrebbe voluto più simile a un cavaliere del buon tempo andato, più pronto a difendere vedove ed orfani e a schierarsi dalla parte della giustizia. Nel segreto del suo cuore, la fanciulla amava il misterioso sorro, che qualche volta aveva incontrato, magari mentre era intento a seminare i suoi inseguitori, cosa che non gli aveva impedito qualche galanteria. La fanciulla, naturalmente, non sospettava che il giustiziere mascherato fosse proprio il suo Diego, che di giorno recitava la parte dello sprovveduto proprio per essere più libero a notte di vestire i panni dell'eroe. Spero che ti sia piaciuto questo video. Fammelo sapere selezionando il pollicello in su. E se ti iscrivi al canale di Libri da Camera, potrai ricevere le notifiche di quando pubblicherò ogni prossima lettura. Grazie. 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 Grazie.